La stidda esiste ancora? Chi sono stati i loro padrini? Cosa si nascondeva dietro le sanguinose faide che negli anni 80 e 90 fecero piombare città come Gela, Porto Empedocle e Palma di Montechiaro nel terrore? E cosa fanno oggi quei killer spietati, boss e gregari che uccidevano con freddezza mafiosi magistrati politici? Carmelo Sardo ne parla nel suo libro che si rivela un saggio romanzato, Cani senza padrone, la stidda, storia vera di una guerra di mafia. Il capo redattore del TG5, originario di Racalmuto e autore di altri romanzi di mafia, è andato oltre la mera inchiesta giudiziaria. Ha letto le carte, 15.000 pagine di intercettazioni, inchieste e sentenze, ma soprattutto parlato e incontrato loro, i killer della stidda. Nelle carceri dove sono sepolti da oltre 25 anni per scontare una fine pena mai, oggi ha trovato persone adulte, diverse, soprattutto colte, molti dei quali anche laureati. Non ho letto soltanto sentenze, non ho parlato soltanto con magistrati, con inquirenti, con poliziotti di quel tempo, ma mi sono messo in testa di andarli a trovare uno a uno i protagonisti di queste pagine dolorose. Sono andato nelle carceri dove sono sepolti molti dagli ergastoli, ho ottenuto i permessi speciali per poter parlare con loro e farmi dire oggi che loro sono persone adulte, cosa a quel tempo li avesse spinti a rovinarsi le loro esistenze, uccidendo e bruciando la propria vita sepolta dall'ergastolo ostativo. Li ho incontrati, ne ho incontrati molti, ho incontrato Gelesio, ho incontrato i killer del giudice Livatino, ma ho incontrato e ho parlato anche con collaboratori di giustizia che grazie alle loro testimonianze hanno permesso allo Stato di debellare quella organizzazione criminale che come molto opportunamente hai rimarcato tu, veniva chiamata Stigia. Nesce fuori un libro ricco di testimonianze e nuove verità, iniziando dall'uccisione del giudice Rosario Livatino che Cermelo Sardo visse come giovane cronista per Teleacras di Agrigento e poi gli stidari Gelesi, i fratelli Ianni e Orazio Paolello rinchiuso al Caccere Opera di Milano. Se corriamo il rischio di approcciarci a questi personaggi con i pregiudizi che fatalmente si rischia di avere perché noi se andiamo in carcere a incontrare Orazio Paolello, a incontrare Giuseppe Grassonelli o Alfredo Sole e sappiamo di loro che sono condannati all'ergastro perché hanno compiuto una miriade di omicidi, se andiamo col pregiudizio e trovarci di fronte a un criminale sbagliamo ed è quello che è successo a me. Quando io sono arrivato con loro pensavo di ritrovarmi di fronte a dei criminali, in realtà 25 e oltre e passa di anni di carcere hanno completamente cambiato questi che oggi sono uomini adulti e li hanno trasformati in delle persone nuove, in delle persone recuperate, in delle persone che condannano il loro passato. Quindi per me è stata una piacevolissima e grande scoperta. Peccato soltanto che alla libreria Orlando c'era l'assenza dei giovani che non hanno vissuto quell'epoca ma che farebbero bene a conoscerla. Prossimo appuntamento, mercoledì prossimo con Attilio Bolzoni con il suo libro sul paladino della legalità, ovvero Antonello Montante, condannato proprio nei giorni scorsi a 14 anni di carcere.